I ristoranti, le enoteche, i bar e i locali etnici di Roma e del Lazio sono stati commentati dai 12 critici enogastronomici per le tre nuove guide del 2012, curate dalla casa editrice La Pecora Nera. Nella sede di Piazza Sant'Ignazia a Roma, nel centro servizi tipici e tradizionali dell'azienda romana Mercati, sono stati presentati tre volumetti dai titoli Roma nel piatto, Roma per il goloso e Roma il mondo nel piatto. La particolarità delle tre pubblicazioni sta nel fatto che, a differenza di molte altre guide, la visita nei ristoranti viene condotta completamente in anonimato, senza che lo chef o il personale siano avvertiti. Questo consente di avere una critica al più possibile obiettiva e alla portata di tutti che quest'anno pone al top il ristorante La Pergola del Roma Cavaliere Hilton di Heinsbeck, seguita dalle colline ciociare di Acuto di Salvatore Tassa. Le guide sono patrocinate dall'assessorato alle attività produttive sostenute dal Ministero delle Politiche Agricole, la provincia e il comune di Roma. Alla presentazione era infatti presente il presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti, che ha sottolineato l'importanza dell'anonimato degli ispettori definendo le guide indipendenti per vocazione. L'assessore capitolino Davide Bordoni ha ricordato che molti turisti vengono a Roma per visitare i monumenti, ma molti altri per assaggiare i prodotti tipici ed anche su questo aspetto dobbiamo puntare. I responsabili della casa editrice, la pecora nera, hanno fatto sapere che tutte e tre le guide sono acquistabili anche nel formato digitale per ebook.